Un percorso ostacolo e una battaglia contro il calendario, quella relativa alle gare d'appalto per i giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, soprattutto per le opere più importanti. Non si può più sbagliare nulla, per lo stadio Iacovone ad esempio la predisposizione del bando è in fase avanzata e la gara dovrebbe essere lanciata entro la seconda settimana di agosto. Se ne occuperà sport e salute, braccio operativo a livello statale nel mondo dello sport, che ha curato anche il nuovo progetto della struttura. Sarà dato un mese di tempo per presentare le offerte, probabilmente con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, un altro per la valutazione delle offerte stesse e altre 4-6 settimane per la progettazione esecutiva. A conti fatti il cantiere, nelle speranze del commissario dei giochi Massimo Ferrarese, dovrebbe partire tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre e dovrà essere completato per fare in tempo in 18 mesi. L'altro stralcio, con tempistica simile, riguarderà la demolizione dell'anello inferiore della struttura, ma nel frattempo dovranno arrivare al più presto i decreti interministeriali per sbloccare i 107 milioni del secondo masterplan e dovrà essere raggiunta sul documento anche un'intesa con la regione Puglia come confermato dalla Corte Costituzionale. Intanto il comune di Tanato ha segnato quattro progetti di propria competenza, quello della Palamazzola per un importo di 258 mila euro, dello Stadio Valente di Atletica ex Campo Scuola, del campo comunale Renzino Paradiso di Tramontone e della Villa Peripato per un totale di 750 mila euro.